Grazie a tutti. A differenza di altri carnevali che magari sono ancora un pochino in ritardo. Intanto buongiorno. Buongiorno. E grazie di essere nostro ospite oggi per parlarci di uno dei più bei carnevali del mondo, cioè il Carnevale di Venezia. Carnevale storico, tradizionale, che però ogni anno sa raccontare qualcosa di nuovo e anche quest'anno non fa eccezione da questo punto di vista. Abbiamo detto un Carnevale tutto dedicato ai colori e alla gioia. L'anno scorso fece scalpore il toro, no? Lì a Venezia in un momento in cui l'economia faceva preoccupare un po' tutti. Adesso le cose non sono cambiate, però voi avete voglia, soprattutto in questa stagione del Carnevale, di vedere un mondo più positivo, più colorato. Ed ecco qua il manifesto di questo Carnevale. Colori, quindi? Sì, l'anno scorso, hai detto bene, ci siamo un po' presi gioco della grande finanza, della borsa anche in qualche modo con il toro che bruciò in laguna a fine Carnevale. Quest'anno, visto che non possiamo prescindere dal contesto, che è un po' evidentemente cupo, cerchiamo di ravvivarlo con un Carnevale all'insegna della liberazione, della freschezza, della gioia che i colori sanno dare. E' stata una scelta molto pensata, molto ragionata, ma anche nello stesso tempo molto naturale, perché non c'è niente di più colorato del Carnevale. Ecco, abbiamo detto che il Carnevale di Venezia è già entrato un po' nel vivo in queste giornate. Tra l'altro, adesso parlo con la regia, abbiamo anche un filmato di quello che è stato l'ultima, anzi una delle prime, l'inaugurazione di questo Carnevale. Ed è stata un'inaugurazione che, come tu stesso, magari tu hai raccontato, è stata l'insegna un po' di una stagione felliniana sostanzialmente. Il circo e la magia sono entrati a far parte della città di Venezia, che è magica di per sé stessa. Sì, l'idea era cercare di trovare un pretesto gioioso, giocoso per portare la luce in laguna. La luce perché la luce è anche a scatenare i colori. E allora ci siamo inventati uno spettacolo acquatico, una grande, diciamo, performance sull'acqua che si è tenuta a Canareggio sabato e che ha portato letteralmente, con queste grandi macchine sceniche galleggianti, con delle coreografie sognanti della compagnia francese L'Otopì, ha portato la luce del Carnevale in città, che ha metaforicamente illuminato una lanterna, in realtà una specifica lanterna. Che sono di grandissima suggestione, non solo perché Venezia è così con il fuoco, nell'acqua, già di per sé, già dà grande suggestione. E queste scenografie sono veramente molto adatte a questa città. Avevamo illuminato anche tutto il rio di Canareggio, dove si è tenuta la manifestazione, con delle luci in molti colori lungo le fondamenta, che hanno ricordato in qualche modo i carnevali delle origini, quando questo si continuava a fare, e naturalmente luci moderne, a led, quindi non inquinanti. Magari tutti le usassero. E lo spettacolo è stato davvero esaltante, è stato una sorpresa. Vedo che c'era tantissima gente sulle rive a guardare. Una decina di migliaia di persone che hanno, secondo me si sono sorprese, non era attesa un inizio del Carnevale così importante, ma nello stesso tempo anche così lieve, così delicato, perché è stato uno spettacolo veramente romantico e sognante, come deve essere l'inizio di un momento festoso, che è il Carnevale. Ecco, stiamo vedendo questa ruota bellissima che sta attraversando il canale, accompagnata da queste spettacolari candele. Anche per gli artisti di questa compagnia deve essere stata una grande emozione poter rappresentare questo spettacolo proprio qui. Guarda, ce l'hanno anche detto, è una compagnia internazionale che viaggia per i continenti, ovunque ci sia dell'acqua, fiumi, canali, ma anche sul mare realizzano degli spettacoli, ma non c'è nulla come Venezia, perché Venezia è la patria, se vuoi, delle macchine azioni sceniche, è la patria dei grandi effetti che destavano meraviglia. E lo sarà ancora? Lo sarà ancora. I nostri carnevali, devo dire, sono carnevali della meraviglia in questo senso, perché ci siamo inventati due anni fa la Fontana del Vino, abbiamo costruito in Piazza San Marco un grande teatro, una grande macchina scenica per definizione, e continuiamo a lavorare sul simbolico anche presentando, per esempio, tre voli, tre voli, diciamo, tre svoli dal campanile. Tu sai che c'è il volo dell'Angelo, che tradizionalmente noi l'abbiamo aumentato, i voli, perché i voli costituiscono il ricordo di queste grandi sorprese, regali e performance che venivano fatte nel 500, nel 600, in onore del doge. E noi abbiamo recuperato questa cosa proponendo un secondo svolo, lo svolo dell'Aquila, la terza domenica del Carnevale, e poi una meravigliosa alzata di bandiera, diciamo, lo standardo di Venezia, il leone alato che sale sul campanile l'ultimo giorno di Carnevale e vola sulla città. Orgogliosamente ho sentato questo leone alato in un momento particolare in cui c'è anche bisogno di riscoprire un po' l'orgoglio della propria storia, della propria cultura, di usare anche quelle risorse che sono il nostro patrimonio storico per cercare di reagire a quello che si diceva prima, a una fase che non è particolarmente felice. Il lavoro che avete fatto, gioiosamente, allegramente, con leggerezza anche, perché stiamo parlando pur sempre del Carnevale di Venezia, è un po' anche questo, cioè andare proprio in profondità nelle radici della storia, delle risorse, perché sono tantissime di questa città, ed esibirle proprio in questa occasione. Sì, se guardi la grafica che abbiamo scelto, l'immagine guida dello stesso Carnevale, ti chiarisce questo concetto. Non so se gli spettatori riescono a vedere. Lo stanno vedendo in questo momento. No, 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 deixiamo fare la regia. No, allora, questa è un'immagine che fa vedere, fa ricordare probabilmente all'occhio attento, un famoso quadro di Pietro Longhi, che rappresenta il rinoceronte. Eccolo qua, il rinoceronte. È uno, forse il più famoso, il primo di sicuro, dei quadri del ciclo che tra il 1750 e il 60 Pietro Longhi dedicò alla città di Venezia. Sicuramente è un'iconografia nota in tutto il mondo. Noi l'abbiamo recuperata scegliendo le scene più interessanti, più legate al Carnevale e l'abbiamo fumettata, se vuoi. Lo studio Camuffo, Giorgio Camuffo, il nostro grafico e designer, ha modificato queste immagini. In questo caso abbiamo il rinoceronte, che era un circo organizzato nel 1751, quando per la prima volta a Venezia venne portato un rinoceronte dall'India. La prima visione, ci tengo a dirlo, rappresenta l'arrivo in qualche modo di una meraviglia. Non ha niente a che fare ovviamente con lo sfruttamento degli animali, con le loro esibizioni. Dobbiamo contestualizzare la cosa in quegli anni, in quei secoli, e la grande meraviglia è la meraviglia stessa del Carnevale. Cioè la grande bellezza delle feste popolari è che in quei momenti era concesso a meravigliarsi e la stessa autorità, il stesso potere lasciava che i cittadini si organizzassero per fare delle feste meravigliose, meraviglianti. Venivano mostrate grandi opere d'arte, venivano arricchiti i canali con dei tessuti. Bisognava stupire. E in questo senso ha anche questa immagine del rinoceronte. La stessa immagine, o meglio, lo stesso stile è stato applicato ad altre immagini. Te ne voglio far vedere qualcuna. Ho qui le bozze del programma... Dobbiamo lasciare un po' il tempo alla regia. Le bozze del programma culturale del Carnevale. Questa, per esempio, è una bellissima immagine tratta da... Oddio, da un lapsus, da Tiepolo e sono dei pulcinella festosi, giocanti. Questa l'abbiamo utilizzata per promuovere la festa veneziana, che è la festa più popolare, la festa di strada, dove ci sono anche gli esercenti che offrono itinerari gastronomici e altro. Questa che vedi, per esempio, sono le lezioni di musica. Un'altra immagine di Longhi e questa serve a promuovere l'intero programma culturale. Ecco, a proposito di questo programma culturale, non è un aspetto secondario di questa edizione del Carnevale, in cui ci sono le cose che fanno questo Carnevale, ovvero le maschere, il Seicento, tutto quello che ha a che fare con la tradizione della nobiltà, le feste private, la festa delle Marie, che è una tradizione delle più belle di Venezia, che ovviamente viene rinnovata, ma c'è anche un ingrediente sapientemente dosato, che è proprio l'intreccio con la cultura cittadina. Come si coniugano queste due cose? Bello, secondo me, perché Venezia è Venezia, frequentata tutto l'anno da un turismo internazionale e particolarmente in questa circostanza da un turismo internazionale, che sicuramente verrà stupito da queste presenze bellissime che sono le maschere del Carnevale veneziano, che però cerca anche un po' qualcosa di più, no? All'interno. Tutto il Carnevale è una forma di grande cultura, di cultura alta, di patrimonio immateriale. Quando parliamo di programma culturale ci riferiamo più che altro al rapporto con le istituzioni culturali. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti i cenacoli cittadini, le istituzioni, le accademie, l'università, i grandi musei. Li abbiamo raccolti, metaforicamente intorno a un tavolo e ci siamo detti signori, proviamo a riportare il Carnevale nei musei, nei centri dove si fa anche musica, teatro. Purtroppo il Carnevale negli ultimi anni... Devo fermarla un secondo, fermarti un secondo, perché abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, ma subito dopo ci racconterai, perché ci sono molte iniziative di tanti tipi che rallegrano questo Carnevale, tra pochissimo. Allora, stiamo parlando del Carnevale di Venezia con uno dei principali artefici di questo Carnevale che è Stefano Caragioff che si occupa proprio della direzione artistica. Abbiamo detto un Carnevale che sempre ha a che fare con la tradizione, tra l'altro abbiamo anche delle belle immagini del Carnevale dell'anno scorso che ci mostrano a Venezia in tutto il suo splendore, ma anche un Carnevale che vuole essere innovativo e in linea con lo spirito dei tempi, fare rete, tirare fuori i gioielli di famiglia per mostrare quello che siamo. Ci ha raccontato prima Stefano Caragioff di questo orgoglio con cui verrà ostentata anche lo stendardo del Leone di San Marco. Venezia è tante cose, tante realtà, tanti musei, tanta musica, tanto teatro, tanto di veramente tutto. E tutto questo sarà un po' dentro al Carnevale. Sì, l'abbiamo messo in rete in un programma culturale dove dal 2 al 12 di febbraio il pubblico potrà scegliere tra un centinaio di eventi nei musei civici, a Capesaro, alla Casa di Carlo Goldoni, al Museo di Storia Naturale, a Carezzonico, piuttosto che nel Palazzo Grimani, al Museo di Palazzo Grimani che fa parte del polo museale, all'interno della Fondazione Peggy Guggenheim, della Fondazione Pinot, alla Punta della Dogana, alla Querini Stampalia. Abbiamo raccolto il meglio che c'era in tutti questi luoghi intorno al tema del Carnevale che sono i colori, quindi itinerari a tema piuttosto che Quindi tutti sono stati chiamati comunque a creare qualcosa di nuovo sul tema del colore. Abbiamo chiesto tra settembre e ottobre alle istituzioni di pensare, progettare qualcosa insieme a noi. In certi casi abbiamo partecipato direttamente producendo questi spettacoli, in altri abbiamo ricevuto delle proposte. Il tutto fa parte di un grande palinsesto all'interno del quale trovare di tutto, dagli itinerari narrati per i calli e per le piazze, per la piazza San Marco, ai concerti, nelle chiese piuttosto che nelle grandi istituzioni, nei musei, spettacoli teatrali. Ci sono anche delle rappresentazioni teatrali all'interno dei musei. È un po' il nostro tratto di riconoscimento. Dal primo anno abbiamo voluto fare degli spettacoli dentro i musei. In questo caso ne cito uno per esempio all'interno di Capesaro, un luogo meraviglioso, sede della Galleria Internazionale d'Arte Moderna. Al secondo piano realizziamo uno spettacolo di Beppi Emiliani, Tutti i colori del mondo, ispirato all'omonimo romanzo di Giovanni Montanaro che racconta come un Van Gogh diciamo giovane viene sedotto dai colori e da una giovane ragazza in un villaggio in una città di Matti. piuttosto che con una serie di concerti che realizziamo alle Apolline nella Fenice al Palazzo Albrizi tutti ispirati al tema del colore in questo caso il colore nella musica. Il colore si trova in tutto, si trova nell'arte ovviamente all'interno delle grandi gallerie di Pinacoteche. Avete fatto questo cartellone che abbiamo mostrato anche prima in cui ci sono la scritta colore e color e tutte le varie lingue che io non conosco alcune delle quali sono anche scritte in alfabetiche e si fanno fatica a decifrare e questo lo dico adesso perché si unisce molto bene a quello che è lo spirito di questo carnevale che vuole fare un po' riflettere e un po' sorridere e i colori del mondo sono anche un po' l'emblema dell'internazionalità di questa città che da sempre è stato anche un simbolo di convivenza tra popoli e di tolleranza. Era uno dei grandi temi all'inizio del percorso che facciamo tra l'estate e l'autunno precedenti il carnevale era scegliere l'argomento intorno a cui giocare il carnevale e uno degli argomenti che ci ballava per la testa era quello della diversità il tema del multiculturalismo di Venezia e i colori sono una grande metafora di diversità perché ne esiste un'infinità di colori e tutti i colori sono uguali tutti hanno pari dignità quindi anche simbolicamente è stata una scelta che ci è piaciuta per questo avete ospiti anche stranieri abbiamo visto che l'apertura del carnevale è stata affidata in realtà degli ospiti francesi ci sono altri ospiti che arrivano dal mondo per questo carnevale? abbiamo un'intera programmazione in piazza San Marco che è basata su artisti di circo teatro e performance di strada che vengono da tutto il mondo per quanto riguarda gli spettacoli nei musei diciamo nel programma culturale cerchiamo di scavare all'interno della città di valorizzare le realtà istituzionali e anche informali che esistono in città quindi è un programma fatto in italiano per lo più quello culturale che va a cercare l'internazionalità di Venezia in qualche modo quindi in italiano ma con un linguaggio che possa essere decifrato anche da un pubblico internazionale assolutamente sì anche perché Venezia è stata una grande metropoli multiculturale prima della modernità ma tutte queste cose sono abbastanza accessibili economicamente cioè chi arriva a Venezia per godersi il carnevale può farlo con un budget limitato allora tenga presente che io sono qui a presentare il carnevale ufficiale quello del comune quindi anzi tra l'altro mando ovviamente anche i saluti del sindaco corsoni dell'assessore pancera del nostro presidente rosa salva è un carnevale per la città per i cittadini prima di tutto e quindi anche con una grandiosa offerta gratuita e con prezzi popolari la grandissima maggioranza degli spettacoli di cui l'ho parlato e che il pubblico trova nel nostro sito carnevale.venezia www.carnevale.venezia.it sono per lo più a ingresso libero in certi casi bisogna prenotare in certi casi vi sono dei biglietti che sono diciamo simbolici e c'è da dire che il nostro carnevale si deve anche basare in qualche modo su un autofinanziamento quindi grazie agli sponsor e anche in minima parte grazie alla biglietteria alle entrate che ci sono insomma ci sono anche tante cose che sono accessibili senza la necessità di impegnare grandi cibi ma Venezia in realtà è l'unica città dove il carnevale è davvero accessibile a tutti perché è un carnevale di strada e il più grande è il carnevale di strada basta passeggiare stiamo vedendo le immagini già uno si vede uno spettacolo sostanzialmente e partecipa a uno spettacolo perché è l'unico carnevale al mondo in cui si viene a fare il carnevale e non a vederlo non ci sono il tema per cui le persone vengono a Venezia è per mettersi in maschera e entrare nella propria performance non per andare a vedere una sfilata non per partecipare in un sambodromo a una grande festa non necessariamente per andare a delle feste in maschera ci sono delle bellissime feste in maschera ma il carnevale più bello più autentico è quello in strada la maschera più bella però andrete a caccia anche quest'anno ovviamente una caccia grossa nel senso che quest'anno raddoppiamo non ci sarà solo il premio alla maschera più bella ma anche il premio alla maschera più colorata e sarà una programmazione giornaliera di selezione che parte dal sabato 2 e si chiude col martedì grasso la grande sfilata la grande parata finale è la domenica 10 febbraio e abbiamo anche dei grandi premi importanti messi in palio da Promo Vetro da Vicenza Oro per le maschere più belle ma il vero premio è sfilare a San Marco assolutamente la cosa che è più ambita credo per queste maschere sia proprio questo siete anche un po' un carnevale 2.0 quest'anno social diciamo così avete messo in campo anche una serie di strumenti che sono dell'epoca moderna attraverso i quali però il pubblico si può ugualmente divertire perché è un modo anche per scambiarsi anche se non si può sfilare direttamente in piazza San Marco si può sfilare diciamo così nel mondo attraverso i vostri i vostri social sì sì infatti so che ci state aiutando abbiamo un po' di indirizzi abbiamo una collaborazione da due anni a questa parte con Ca Foscari mette a disposizione una squadra di ragazzi e di dottorandi che si occupano di digital design e che seguono espressamente i social network del carnevale con una task force di 10 persone che partecipa a tutti gli eventi e in tempo reale aggiorna Facebook Twitter Instagram YouTube e effettivamente abbiamo moltiplicato gli accessi al nostro sito anche grazie a questi canali stiamo vedendo che il vero carnevale online si fa su questi mezzi e quindi non possiamo non esserci si possono caricare foto vedere video anche perché se posso permettermi avete anche un po' la necessità di coinvolgere il pubblico giovane nella tradizione del carnevale perché diciamo che una parte della programmazione è sempre dedicata al pubblico giovanile attraverso concerti eventi in terraferma soprattutto feste musica però coinvolgerle direttamente in quella che è la tradizione più profonda del carnevale veneziano è sempre un po' complicato ma una caratteristica del carnevale è quella di rivolgersi a tutti abbiamo programmi per ogni target come si dice hai citato i giovani noi abbiamo una programmazione per esempio destinata proprio ai più giovani con la Dance Carrival Network che sono 16 appuntamenti non so per quale motivo ecco ok 16 appuntamenti serali di grande glamour di grande attrattività Dance in 5 luoghi diversi dalla Palazzina Grassi al Doc 117 dalla San Basilio al Morino Stucchi naturalmente al Casino di Venezia dove ci sono delle grandi serate con i migliori DJ alle console per esempio abbiamo una programmazione per bambini straordinaria quest'anno con una quindicina di laboratori per ragazzi per bambini nelle fondazioni museali nei musei civici 5 laboratori diversi nei musei qui mettono proprio le mani in passe ragazzi ovviamente ma sì col tema dei colori è inevitabile infatti in questo devo dire ci sono venuti dietro i musei in modo straordinario perché hanno programmato dei laboratori ad hoc quasi tutte queste istituzioni progettano normalmente un'attività didattica per il carnevale hanno elaborato dei programmi ad hoc ne siamo molto orgogliosi perché significa coinvolgere il pubblico più autentico del carnevale da un po' diciamo scorrere prego prego a carnevale si può ogni scherzo ma questo non è uno scherzo una cosa seria seria diciamo che sono un po' le prove generali di questa cosa che piacerebbe a tutti vedere realizzata che è la candidatura di Venezia capitale europea della cultura state riuscendo in quello che potrebbe essere il programma di base e semplicemente il programma di base di una candidatura che sta diventando più complicata del previsto sì naturalmente io non rappresento qui la candidatura di Venezia lo sappiamo perché sarebbe stata un po' scorretta e la mia risposta sarà letteralmente scorretta perché non ne rappresenta un ufficialità quello che posso dire è che effettivamente le ragioni profonde di questa candidatura sono nella valorizzazione di una rete diffusa in questo caso la candidatura alle Venezie la candidatura non solo a Venezia ma a tutto il territorio storico della Venezia e la metafora è la stessa che adottiamo noi un carnevale diffuso un carnevale che scava in quello che è il nostro punto forte cioè i nostri galloni il nostro petrolio insomma chiamiamolo quello che vogliamo il loro nero sono metafore usurate ma sono effettivamente la ricchezza di questo paese quando si parla di design bisogna applicarlo anche al tema degli eventi culturali anche al tema del patrimonio il carnevale così concettualizzato e con questa ricchezza di progetti è il carnevale che rappresenta meglio il made in Italy a mio parere ma intanto ho scoperto nel frattempo che forse il pubblico non ha sentito nemmeno la mia domanda scorretta perché ho avuto un problema con il microfono chiedevo ovviamente intorno a questa candidatura di Venezia 2019 che sta incontrando serie difficoltà che tutti quanti invece auspichiamo che possa raggiungere una seria concretezza e anche vincere ovviamente anche il fatto sicuramente vincere ma il fatto di parlarne il fatto di affrontare questo percorso è sicuramente positivo assolutamente non solo per la città ma per l'intero territorio come giustamente hai detto perché in questo territorio ci sono risorse che sono un po' come il petrolio e che danno forza anche poi a tutto quello che gira che gira intorno a questo nord-est che non è fatto soltanto di fabbriche ma per fortuna è fatto anche di tanti altri tipi di risorse a proposito di territori cosa avete riservato per la terraferma? ecco un gran programma anche per la terraferma e per le isole beh intanto il classico ormai volo dell'asino che si svolge in piazza Ferretto la domenica 10 febbraio e poi abbiamo un'altra tradizione che sono diverse edizioni che manteniamo che è il carnival basco quest'anno si chiamerà Carnival Baskers è un basso scolastico uno di quei gialli che porta in giro una truppa di attori di figuranti di di acrobati che durante il periodo del carnevale animeranno i bambini nella terraferma nel vicino alle scuole nei centri nel pomeriggio abbiamo abbiamo il primo sabato un grande concerto di Battisto Cocco a Mestre e poi abbiamo una programmazione diffusa in tutte le municipalità è un carnevale che pensa all'intero territorio di Venezia cerca anche di animarlo perché è la natura stessa del carnevale è un po' prestino per parlare della fine del carnevale però diciamo che viene confermata una manifestazione che è stata sempre molto apprezzata che è questo momento del silenzio sostanzialmente in cui Venezia torna ai suoi ritti e ai suoi suoni abituali si parli dell'avvocata del silenzio dell'avvocata del silenzio ovviamente si è una reinvenzione i nostri carnevali cercano sempre di reinventare qualcosa che già fa parte della tradizione in questo caso niente di più che a riportare la Venezia a un'atmosfera pre-industriale se vogliamo pre-energia elettrica e quindi una vogata che parte che fa riflettere diciamo che è molto in linea con i tempi in linea con i tempi l'ultimo giorno di carnevale in Marte di Grasso quando ormai la festa avvolge al termine alle 11.30 di sera da Rialto partirà un quartier silenzioso di gondole che si spostano attraversano percorrono l'intero canale e arrivano in Baccino di San Mar in Baccino di San Marco tutto illuminato da fiaccole e da lumini quindi con la luce elettrica spenta il canale arrivati in Baccino di San Marco tutti si raduneranno intorno a una grandissima pira e ci sarà un rogo un rogo che metaforicamente brucia in qualche modo il carnevale e da inizio la quaresima la cosa sfiziosa diciamo è che il rogo sarà iniziato dalla fiammella che ha acceso il carnevale la stessa che hanno portato un po' anche olimpiade un singolo olimpico se vuoi portato dagli erotopi raccolta dalla lanterna del bucintoro contenuta in San Marco per tutta la durata del carnevale accenderà il rogo della giornata quest'anima continuerà a bruciare sostanzialmente dentro tutto il carnevale al nostro pubblico che magari attraverso le immagini e le parole di Stefano Karajov si sarà sentito un po' attratto da questo carnevale voglio anche ricordare che bisogna cercare di partecipare intensamente perché questo non sarà un carnevale lunghissimo diciamo così si chiuderà abbastanza in fretta per quel che riguarda i festeggiamenti in tutta Italia ovviamente quindi anche a Venezia si comincia a entrare già nel vivo sabato prossimo poi la scaletta diciamo un ritmo sabato festa delle marie alle 4 di pomeriggio in piazza San Marco il giorno dopo a mezzogiorno abbiamo il volo dell'angelo abbiamo tutti i giorni la maschera più bella con finale domenica 10 la vogata del silenzio martedì 12 l'infinito programma serale in San Marco abbiamo ogni giorno 11-12 ore di programmazione artistica concertistica museale in giro per la città è un programma straordinariamente ricco che solo lo studio su internet abbiamo una presenza nel sito di visitatori che rimangono 4-5-6 minuti a studiare più o meno quanti visitano il sito? guarda siamo a 12.000 persone al giorno e più o meno quanti ne aspettate a Venezia per il carnevale? ma io viaggio sulle centinaia di migliaia quante centinaia di migliaia? ma insomma adesso è anche difficile quantificare il pubblico anche perché Venezia ha una capienza ha una capienza il tema vero è che i veneziani non stanno più scappando da Venezia durante il carnevale e questa è una novità perché cominciano a capire che il carnevale offre dei contenuti interessanti anche per loro e curiosi in qualche modo a riscoprire la propria tradizione va beh insomma noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione ringrazio Stefano Caragio di essere stato con noi a tutti quanti l'invito ad andare a Venezia in tutti i carnevali che ci sono a nord-est però insomma una capatina a Venezia non bisogna non bisogna trascurata grazie ancora e arrivederci a tutti quanti e buon carnevale grazie grazie